bene ragazzi, buongiorno, siamo qui con un nuovo video scusate della mia assenza ma ho avuto cose più importanti da fare in questo giorno che poi ero molto impegnato con lavoro e volevo raccogliere qualche altro dato sappiate che non andrà in temperatura dicevo, volevo raccogliere qualche altro dato non so se stia filmando, spera di sì si sta filmando per completare i test che volevo condividere con voi allora, allora ieri ho avuto modo di montare le posizionazioni del minimo B68 quindi permettere di, permettere l'ingrasso permettere di ingrassare il gesto del minimo di 3 punti prima ero 65 con un B65 ora ho messo un B68 con il B68 per stanza è sparito il problema del vuoto in apertura da fermo quindi adesso il minimo è a posto ho messo un B123 anziché un B125 di massimo perché lo sentivo leggermente grasso e e ho sistemato chiaramente ho sistemato anche poi l'ingrasso del minimo eccetera e ora ci siamo probabilmente potrei mettere anche un B122 perché ieri durante i test scendivo proprio a orecchio una lievissima puntina di carburazione grasso va benissimo così allora diciamo che ho tirato lo scooter andate in un posto dove ho tirato che buone qua e sono rimasto diciamo deluso sotto un certo aspetto ma ho avuto una conferma sotto un altro ho fatto diverse tirate per essere sicuro insomma che magari ci fosse la strada un po' in vendenza che non si fosse il vento pronto che ci fossero sfalzi diversi quindi ho fatto alcune prove e ho visto con Gps che la velocità massima era di 128 km orari contro i 152 e la configurazione con il 35 la PM tuning e l'aspirazione MW ma anche con beh che in realtà era fatta con il ventolino a 13 gradi quindi quello che toglieva velocità massima quindi probabilmente con il ventolino a 14 gradi originale avrei fatto anche 5, 6, 7 gradi in più ma non ho provato perché poi in quest'anno è ancora una niente sempre ho cambiato la configurazione però c'è da dire che anche con il 28 2L16 l'anno l'ossi con il 28 originale faceva sempre 152 se vi ricordate qualche anno fa quando avevo fatto i test la velocità di punta era sempre quella probabilmente perché era il limite di questi rapporti quindi mi sarebbe venuto a vedere con con il con il con il gps con la velocità con il 40 gradi con la PM1 ma ci sono possibilità che sarebbe variata anche in quel caso quindi dicevo ho perso ho perso 24 km orari di gps che sono veramente tanti ho perso molto anche dell'erogazione tranne tranne diciamo tra i 0 e i 30 km orari che ho guadagnato qualcosa ma sapete che io preferisco che lo scooter vada molto forte dai 60-70 km fino ai 120-130 km io il mio renz è quello perciò e poi ovviamente mi preferisco anche che vada di forte questa massima ma diciamo che il renz che mi interessa dove deve avere la coppia è tra i 60-70 km e i 120-130 km come consumi ieri ho fatto un bel po' di km però avevo già metà serbatoio quindi non so ma mi pare che all'incirca ci troviamo sempre sui 20 al litro adesso contro i 16-17 del pit e m2 quando avevo la Malossi con il filtracono quando avevo la Malossi con il filtracono i consumi erano addirittura più basse se si stava tra i 90 e i 100 e i 110 km lari perché ovviamente adesso per raggiungere velocità devi aprire di più quindi entra più benzina ok ok quindi da un lato mi aspettavo che ovviamente sarebbe crollata più vertiginosamente la velocità massima dall'altro però speravo che almeno a 135 si arrivasse io mi aspettavo una velocità tra i 130 e i 135 e quindi è leggermente più bassa di quello che mi aspettavo può darsi che anche quel punto di massimo mi tolga dal vostro trattorario perché come sapete quando la carburazione è magra o grassa i cavalli calano e quindi perdiamo anche la velocità massima però sì, probabilmente potrebbe arrivare a 131 non penso sicuramente di più il frattempo è 53 gradi, non fa in temperatura bene, poi cos'altro? adesso i prossimi test da fare sarebbero quelli primo mettere il collettore inox SIP con la SITO e vedere se effettivamente con questa marmitta c'è una resa migliore stanno sfalciando l'erba, adesso la spiro nel filtro se effettivamente con la SITO va uguale, perde o guadagna anche per sfatare tutti i miti che si leggono sul fuori o sui gruppi qui stiamo attenti perché c'è la curva un po' in realtà avrei un altro progetto per il filtro per incrementare leggermente le prestazioni per non avere un'aspirazione nel posteriore qui adesso vediamo quindi c'è da fare poi c'è da provare l'accensione di miti motori per vedere se aumenta solo la ripresa se perde velocità massima questa è la chiaia di tutta pericolosissima queste cose qua perché ci sono i trattori che buttano su di tutti bene, comunque per adesso è tutto ci sono altri gradi, non fai temperatura per adesso è tutto direi che i prossimi giorni magari proverò a mettere su la SITO farò una tirata per poter vedere se c'è qualcosa bisogna vedere col tema perché non ne ho avuto tutti e e basta se avete considerazioni fatele passate nei commenti lasciate l'icone scrivetevi al canale se lo avete già fatto e adesso è tutto da me, dallo zippone e dal dottore che non va in temperatura è tutto un saluto alla prossima l'icone e l'icone l'icone